Buonasera e bentrovati. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Museo Ferroviario di Pietrarsa per celebrare 180 anni dalla prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. Un primato del Sud che segnò una rivoluzione per il Paese economica, culturale e sociale. Un primato, dice il Ministro delle Infrastrutture, che deve diventare una sfida, potenziare la mobilità nel mezzogiorno. L'inviato Anna Teresa Damiano. La targa scoperta a Pietrarsa per ricordare che 180 anni dopo la prima corsa della prima linea ferroviaria italiana chiude la celebrazione di un primato del Sud nel luogo che quella memoria custodisce. Ma il Presidente Mattarella e il suo intervento alla stazione di Portici lo apre con un omaggio a tutti i lavoratori delle ferrovie e ai servitori dello Stato come i due giovani agenti uccisi a Trieste. In realtà la nostra vita procede e si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di tante persone sconosciute, servitori dello Stato, servitori della nostra comunità, come i due agenti della Polizia di Stato ieri assassinati a Trieste. Era arrivato in treno a Portici il Presidente Mattarella. Da Napoli un tragitto di 7,5 km come quello effettuato il 3 ottobre 1839 dalla linea nata 22 anni prima dell'Unità d'Italia nel regno delle due Sicilie. 11 minuti, un record e una rivoluzione per il Paese economica, culturale, sociale. Ricorda l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti. A Portici anche il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e quello delle infrastrutture Paola De Micheli. La nostra sfida è quella di potenziare questo strumento, lo strumento principe della mobilità, il treno, come volano per la lotta alle differenze, alle differenze di opportunità. Diseguaglianze, differenze di opportunità tra aree del Paese, quel primato di 180 anni fa ce le ricorda? C'è molto da fare ma è anche corretto dire che Rete Ferroviaria Italiana sta lavorando molto per velocizzare tutta la dorsale tirrenica che a sud di Salerno arriva fino a Reggio Calabria innalzando in molti tratti la velocità anche a 180 km orari.